Giobbe Covatta Giobbe Covatta pensa che i socialisti siano tutti dei ladri Chi ha più che ce l'aveva con i socialisti? Beppe Grillo C'era un comico che ce l'aveva con i socialisti Adesso non mi ricordo più chi era Che diceva che erano tutti dei ladri Biancaneve rimase ancora una volta solo nel bosco Ma per fortuna aveva i suoi amici animaletti Tra i quali c'era anche un ornitorinco di bisceglie che le disse Di che ti preoccupi ci penso io E cammina cammina la condusse in una radura dove Biancaneve bidona casetta Pulisciti i piedi prima di entrare che quelli sono incazzosi Le consiglia l'ornitorinco Biancaneve entra nella casetta e vedi sette piattini Sete bicchierini, sette forchettine, sette coltellini, sette lettini Quattro spazzolini e tre dentiere perché purtroppo tre nani avevano perso i denti per via della piorea Dopo aver ben mangiato e ben bevuto Biancaneve si abbandonò su uno dei sette lettini Ma essendo questo lungo 31 cm edita una cappata allucinante sulla tastiera Più che cadere addormentata, cadde svenuta e la rimase Dopo breve tempo dal bosco si udì Torniamo, torniamo, torniamo da lavorare Po 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 attore della lunga e felice giornata in fabbrica. E arrivarono alla casetta i sette nani, rubalo, picchialo, scippalo, scassalo, schiattalo, strozzalo e cinzia. E il primo disse, che ha mangiato nel mio piattino? E il secondo, ma che ha bevuto nel mio bicchierino? E il terzo, ma che ha usato alla mia forchettina? E il quarto esclamò, se acchiappa quello che ha usato alla mia dentiera, io gli scasso il mazzo. Poi i nani videro biancaneva addormentata ed esclamarono in coro, uh, guarda, un protozoa.